Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video! Oggi il canale dei giovani sfidanti farà una nuovissima challenge! Voi vi starete chiedendo perché? Per terra ci sono tutti questi vestiti, guardate! È molto semplice il motivo, perché noi faremo una challenge lo indossi o lo scarti? Allora, praticamente, questa challenge consiste nella uno di noi che sarà il tuo, vi avete tu, tu, tu! E non è che faccio io, vabbè! Vabbè, faccio solo io, io mi faccio... No, io, io, io! Faccio io! No, io, io! Vabbè, lo facciamo! Visto che ci sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei vestiti! Allora, faremo tre vestiti per me e tre vestiti per sé! Ah! Allora, uno di noi si mette la benda, una benda e l'altro che vede prenderà un vestito e quello bendato dovrà dire se lo mette o lo scarta ci sono diversi tipi di vestiti tipo questo che andrebbe molto bene e l'altro questa che non andrebbe bene no, no, per niente Allora iniziamo Allora io intanto vado a prendere la benda ragazzi, purtroppo non sappiamo dove la benda quindi dovremmo semplicemente chiudere gli occhi senza parlare capito? Ok a te capito? 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 capito che tu mi risai sempre, hai capito? è perché io l'hai girato Allora guarda che io ti sto riprendendo lo vedo dalla telecamera se ti giri o no bene direi di piziare con questo lo scarti lo scarti o lo indossi? ehm lo scarto girati perché l'hai scarpato? ah e amici gli occhi perché l'hai scarpato? nooo ok io comunque me lo dovrei indossare no perché non l'ho preso allora ultime due vestiti di girati lo scarti o lo indossi? lo scarto ok apri gli occhi è lo scarto un contame e yeah ultimo oggetto lo indossi o lo scarto aspetta no e coprisci gli occhi ah lo scarti o l'indossi? oh lo scarti o l'indossi? lo scarti o l'indossi? bravo yeah aspettate questa è mia ti starà un po' grandina andiamo un po' mettila ahia ah no ah 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 aspettate si deve mettere la felpa mia questa felpa forse ti starà un po' grandina perché è mia ah quindi magari sembra 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 una formiga di piccolina a te ne so cosa sembrerà ah eh mi dà anche un po' grandina ai miei vestiti infatti un po' grandina lì eh eh non importa levati no eh adesso vai adesso fammi indossare lo scartone oggetto a me aspetta fermo questi qua dov'era questi due no ve li hai già scattati solo tra questi tre eh questo 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 esatto però alzati che non ti si vede ma questi ho due per te no quelli sono i tuoi alzati alzati ti devi alzare oh che non ti si vede dai gli ultimi tre vestiti sono rimasti allora no aspetta che non mi sono manco girato ok devi alzare che sennò non ti sarebbe dovrei sperare eh speriamo comunque di di vincere lo scarti o lo indossi lo indosso l'ho indosso quella è la tua parte ho grandina questa è il mio padre bene adesso entrambi abbiamo una cosa che entrambi adesso abbiamo una cosa che non ci sta bene ma lui quasi così sta benissimo mi ha costruito l'acqua si vuole no non ti rendo le mani cioè guarda ahahah io so lo slenderman vabbè vai eh aspetta un attimo che eh che la bava vai allora vi vai lo indosso o lo scarti lo indosso anche questo ahahah ma dai guardate guardate che mi è capitato guardate ma anche io mi sei 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 guardate che mi ha dato guardate che mi ha dato dai io ti sembro una femmina ahahah come si ahahahahah ahahah 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 raga però fa caldo qua eh ahahah fa caldo eh certo che vincerò io questa challenge io già ho perso con ste cose che ho meno vestiti che ho meno vestiti e io ho meno vestiti perchè ce n'ливa solo uno ahahah ahahah guardara guardare guardati alzate che non ci si vede, l'hai avuto fatela poi scusate che è un po' ok è un attimo caduto così in tu se mi caccia di te ti ammazzo non mi ricordo più qual era l'ultimo oggetto ah credo che è bello è bello e lo indosso e lo indossi dai si questo ci può stare è il costume di harry potter si il costume di harry potter però anche se con tutti questi sembri se l'anderman però me lo apro che se no non si vedono i miei altri vestiti è fatto aprire comunque in questo video che abbiamo veduto è il primo video allora nei commenti dovrete decidere voi chi è il più ridicolo ok però so già chi sarà il più ridicolo vero vedo che già si è nati un po' che è il più ridicolo ok ma non importa iscrivetevi e mettete tantissimi like spollisciate più che mai e ciao al prossimo video ciao 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 ciao